Lascio l'auto un attimo, il tempo di fare un bancomat è ritorno. E' così che anche il secondo automobilista ha lasciato la macchina in sosta al Parc Disabili senza esporre il previsto contrassegno. E' accaduto stamane nei previsti stalli per persone con disabilità di piazzale donatore di sangue ai piedi delle poste centrali di Mestre, per intenderci. Peccato che il tempo di fare bancomat sia durato più di mezz'ora, così commesso con furgoncino bianco che doveva scaricare bevande e bibite per i vicini locali e ristoranti dell'area, che ha raccolto all'appello dell'anziano automobilista. Vero è che per quanto difficile risulti trovare un parcheggio per l'auto in città, specie oggi, giornata di mercato infrasettimanale, altrettanto vero è che parcheggiare o effettuare una sosta sul parcheggio riservato ai disabili senza esporre il contrassegno, e cosa nota, può essere causa di multa. Ed aggiungere inoltre che nel caso si tratti di qualche furbetto, multa a parte, perché non mettersi una mano sulla coscienza e pensare che così facendo si priva una persona delle sue abitudini quotidiane, per le cattive, per non dire pessime, abitudini di qualcun altro.